Piano cave, no all'aumento della produzione del marmo, il voto del consiglio regionale, il 5% in più previsto dal piano, riguarderà altri materiali estrattivi. Torna in piazza il bruscello poliziano a Ferragosto, la messa in scena di Lisistrata nella piazza del borgo di Montepulciano. L'aumento del 5% della produzione delle cave in Toscana non riguarderà il marmo, ma interesserà solo gli altri materiali lapidei. E' questo l'aggiornamento del piano cave deciso dal consiglio regionale della Toscana. Ad introdurre lo stop all'aumento di produzione del marmo è stata una risoluzione del partito democratico, che impegna appunto la Giunta a non rivedere gli obiettivi di produzione sostenibile dei bacini marmiferi. La risoluzione, che chiede anche di attivare sulla variante percorsi di confronto e partecipazione, è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e dei 5 Stelle, con l'astenzione dei gruppi di centrodestra. In aula si è parlato anche della sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato sui siti Romitorio e Valle delle Dispense in provincia di Livorno, che devono quindi essere considerati giacimenti e non giacimenti potenziali, come chiedeva la Regione. Sentiamo le interviste ad iniziare dal capogruppo del PD Ceccarelli. Relativamente all'informativa per la variante dell'aumento del 5% della possibilità di escavazione, la nostra posizione è una posizione favorevole perché si tratta di una proposta che non è una variante al piano cave, ma è una variante attuativa di un dispositivo del piano cave. Piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività che è appunto impattante sicuramente, ma anche necessaria. Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con le associazioni, con le categorie, prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5% che, ripeto, non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave, altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale. Poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo perché per quello che ci risulta l'esigenza di un aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato alla esigenza dei materiali industriali, quindi le IA, gli EGS, cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche lavori pubblici legati al PNRR e che sono stati molto richiesti anche dalla ripresa dell'edilizia che era legata ai bonus che purtroppo ora sono invece stati accantonati. Noi abbiamo fatto presente in aula che il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio, soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Acuane negli ultimi 30 anni è aumentato di smisura praticamente corrispondente al materiale estratto nei 2000 anni precedenti grazie al progresso tecnologico che vede anche impiegato una netta diminuzione di personale tant'è che oggi ammontano circa 600 addetti sulle Alpi Acuane. Questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato nei dintorni di dove viene estratto, quindi a nostro avviso non è certo a beneficio delle comunità locali. Innanzitutto dovremmo anche capire come la Giunta intende esplicare questa estrazione sostenibile perché l'estrazione sostenibile a nostro avviso non esiste soprattutto nel materiale lapideo che evidentemente non ricresce, quindi c'è una contraddizione in termini che offusca e rende poco chiaro tutto il piano regionale di estrazione. Vorrei anche far presente che è stata di recente votata una direttiva europea per la ricostituzione degli ambienti naturali minacciati, una direttiva europea a cui l'Italia ha votato contro ma che comunque è vigente e vorrei capire come la Regione Toscana intende effettuare i controlli sulle cave dismesse dove giacciono rifiuti speciali di tutti i tipi da copertoni vecchi, materiali e macchinari arrugginiti. Tutto questo non contribuisce certo al ripristino naturale anche se ovviamente minimo di una cava dismessa. Sono state presentate in Consiglio regionale due informative importanti con riferimento al piano cave con riferimento alla variante al piano sia a seguito della sentenza del TAR Toscana riguardo i giacimenti potenziali che si sono svolti nei confronti di un paio di situazioni in provincia di Livorno sia in realtà con riferimento alla modifica del 5% per quanto riguarda l'attività produttiva. Da parte nostra intanto abbiamo rilevato, anche perché lo abbiamo appreso solo ieri dalla discussione operata da parte dell'assessore Baccelli negli atti non vi era, che nel frattempo è intervenuta anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del TAR respingendo il ricorso della regione toscana e quindi confermando che le competenze per quanto riguarda la definizione degli atti a giacimenti o giacimenti potenziali è alla regione toscana e non può essere rilasciata ai comuni. E questo è un elemento che per noi è importante perché apre la possibilità non tanto all'utilizzo dello strumento della variante ma probabilmente alla necessità di rivedere ampiamente in modo generale il piano cave perché probabilmente il tema che ha riguardato questa specificità delle due situazioni di Livorno è molto probabilmente largamente più ampia. In secondo luogo per quanto riguarda l'incremento del 5% dell'attività produttiva, fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare situazioni limitate e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato in quali limiti o se tale non fosse, anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e cioè di rivedere il piano regionale delle cave. Allora dal punto di vista puntuale la Regione Toscana ha perso, ci risulta dalla comunicazione dell'assessore Baccelli al Consiglio di Stato proprio ieri mattina, il giudizio che aveva visto contrapporre la Regione Toscana a un'azienda, anzi a due aziende in particolare che avevano fatto dei rilievi sull'ultimo piano cave definendo non adeguatamente accurata l'istruttoria degli uffici della Regione Toscana per considerare giacimenti esauriti e quindi sostanzialmente destinati alla chiusura. Questo è indicativo del fatto che probabilmente il piano cave va rivisto non soltanto nelle quantità ma anche nella qualità, cioè nelle sue valutazioni, nella sua conoscibilità del territorio. Per quanto riguarda l'idea di ampliare del 5% la possibilità di escavo del totale, si tratta quasi di 9 milioni di metri cubi, noi non siamo pregiudizialmente contrari ma abbiamo richiesto con un apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio che ci sia la più ampia partecipazione possibile e quindi il coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso i tavoli di concertazione, delle associazioni ambientaliste comunque rappresentative del territorio insieme agli enti locali per la ricaduta diretta che questo comparto ha naturalmente sul paesaggio e sull'ambiente in modo particolare delle apuane ma non solo e infine il coinvolgimento del Consiglio regionale attraverso le commissioni competenti seconda e quarta per un'istruttoria ancora più approfondita della modifica del piano che ricordiamo è un piano molto complesso, è stato approvato nel 2019 e modificato nel 2020 e che necessita anche di una valutazione ambientale strategica proprio per l'impatto che ha sul territorio. Il piano cave è un atto importante, l'aggiornamento dello stesso per noi è di rimente, è importante, siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana, l'attività delle infrastrutture, l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato, come tale si può adeguare, si può migliorare, si può fare qualcosa di più chiediamo che nel farlo questo avvenga con un atto che abbiamo depositato coinvolgendo le associazioni di categoria. Noi dobbiamo coinvolgere sempre gli enti intermedi per fare in modo che ogni scelta che faccia la regione toscana su questi livelli venga sempre condivisa con il mondo del lavoro e delle categorie. Parliamo di arte, la storica compagnia popolare del Bruscello Poliziano presenterà l'edizione numero 85 attraverso l'adattamento di una delle più famose commedie greche, la Lisistrata, proposta in forma di Bruscello, l'antico teatro contadino, al pubblico di Piazza Grande nei giorni di Ferragosto a Montepulciano. Sì, il Bruscello è, diciamo, da quando è stato portato dalla campagna in Piazza Grande negli anni è diventato veramente uno spettacolo totale perché sotto tutti gli aspetti della teatralità e musicale. Per cui si è fatto un grande sforzo perché era l'unico modo per poterlo far crescere e quindi mantenerlo perché sennò dei grossi rischi c'erano su quegli spettacoli che gli si vuole bene alla tradizione ma poi uno si stanca, il pubblico è abituato ad altre cose per cui bisogna che abbiano le giuste misure all'interno perché siano gradevoli anche dal pubblico. Quest'anno poi abbiamo preso un tema che è Lisistrata, anche abbastanza nuovo perché riguarda le nostre scelte, perché noi in genere facciamo spettacoli nell'area, chiamiamola, medievale. Lisistrata è stato debuttato, diciamo, in Grecia nel 411 a.C., per cui, insomma, un po' di distanza c'è. E però era un tema che mi interessava. Noi, io, che sono tra i più vecchi, mi ricordo le manifestazioni degli anni 60-70 dove appunto facciamo l'amore e non facciamo la guerra, quindi la scelta di quelle donne che invece smettono di fare l'amore per farli smettere di fare la guerra era molto significativa e quindi c'è anche degli aspetti di attualità, anche di divertimento perché è un teatro, è un tipo di testo che ha degli aspetti divertenti. Il Bruscello è uno spettacolo tutto cantato dall'inizio alla fine, quindi la musica ovviamente ha un ruolo predominante. Questo è il mio decimo Bruscello, è una sorta di compleanno. Mi fa molto piacere festeggiarlo con questo tema, è un tema molto stimolante che mi ha portato a scrivere delle musiche, credo, divertenti in cui appunto ci sono tanti cori, tanti cori di donne, tanti cori di uomini che si contrappongono proprio un po' in una sorta di battaglia e di sfida e sono presenti anche i bambini a cui io tengo molto, tanti bambini da 4-5 anni in su fino ai più grandi cantanti che arrivano anche a essere fino a 80 anni. Quindi una musica che credo possa coinvolgere, piacere e essere divertente. Il testo è interessantissimo, attualissimo e dunque sono molto contenta di ripartecipare di nuovo alle coreografie. È importante far muovere il coro, far muovere le mie ragazze, ma anche i bambini e tutti insieme è importante. Piazza Grande è fantastica e poi per l'85esimo anniversario del Bruscello di essere con loro mi fa onore. Noi vogliamo mettere sicuramente in evidenza con questo testo non solo il divertimento che c'è comunque dietro la commedia di Aristofane, ma sicuramente l'importanza che il ruolo della donna ha nella società attuale. Molto spesso si dice che la guerra la combattono gli uomini, ma la perdono le donne e credo che questo testo invece ci dia una speranza, una speranza di una visione diversa e forse anche migliore del mondo attuale.